Salve a tutti ragazzi, bentornati su Q2, sul server 2, siamo su Quick Live e io sono appena morto. Non credo che vi farò vedere tutta la partita perché si tratta di 15 minuti, ma... Sì, è andato. No, porco demonio. Sono in testa, ma vabbè, ho appena cominciato, sono stato fortunato a fare forse il primo sangue. Eh vabbè, mi hanno stuprato. Devo cambiare le mie armi iniziali, perché così sono molto svantaggiato. Mi ci vuole un'arma che possa funzionare da vicino. Mi hanno riconosciuto. Mi hanno riconosciuto. Ok, cerchiamo di giocare ben benone. Oh, quella puttana di tua mamma. Dai, chi è che me l'ha ucciso a mezz'aria? Che palle. Ma l'ho preso! Guarda, guarda. Ha le spalle... Oh, porco demonio. Ok. Ho figo sinergio, non ci credo... Non credo che sia lui. Vedrai il gameplay, amico mio. E avrai la conferma che sono io e che sto facendo anche abbastanza schifo. No, sono io. Siono io. Che come ho scritto, ho scritto proprio ben benone. Con il caps lock tutto al contrario. Metti fuori quella testa di cazzo. Forza, forza. Metti fuori il faccino d'angelo, ti faccio vedere io. Dove arrivi? Sì! È morto, vaffanculo. Ci è voluto un bel po' per mandarlo giù. E allora era una scassa palle. Niente, ma... Mi stiamo arando. Sapesse lui che questa è la mia seconda partita su Quake Live. Probabilmente farebbe meno lo sgruppone. Sì! Allora, il... No, cazzo! Dobbiamo giocare bene, dobbiamo giocare bene. Perché se no questi si vantano che ci stanno arando. Quando così non è. In realtà sì, ci stanno aprendo il culo con una certa... Madonna, l'ho preso però, eh. L'ho preso, infatti sto a 5 kill. 5 kill, 5 punti. Non lo so qua come viene ponteggiato. Onestamente, una delle cose che mi dà più fastidio nei giochi è imparare il sistema di punteggio. Anche perché... Oh! Dai! Chi è che mi ha ucciso? Ero circondato di presenze ostili. E che cazzo? Uno da un lato, uno dall'altro. Dai! Forza! Voglio vedere il vostro colore verde. Nooo, ma ha segato! Troppo tempo a ricaricare sto cazzo di railgun. Penso che un'arma meno potente... Aspettate, va. Facciamo così. Al prossimo giro inizieremo... Guarda che culo! Andiamo avanti col fucile a pompa. Al prossimo giro voglio partire con il rocket launcher. La gente esplode, ma non sono io a farli esplodere. Esplodono proprio perché li fanno saltare gli altri. Ok. Sono contento perché... Madonna, ragazzi. Questi sono pratici con il rocket launcher. Io invece ci devo ancora fare un po' la manina. E sono molto lenti i razzi, eh. Sono molto lenti. E siccome qua si corre... Si corre proprio veloce, veloce, veloce. Devi avere una certa... Una certa bravura... Nell'utilizzarli, sì. Non è il casino. Questo è lo spammatore magico. Questo si spamma di tutto. Questa è un'arma fastidiosa. Quando ti sparano contro tu non riesci neanche a vedere... Oh. Sì. Eh dai. Hanno avuto la meglio, erano in due. Sì. Subito proprio. Tipo piccione, appena sono entrato. Ah, comunque è molto carino. È molto carino questo gioco. Mi piace tanto. Anche se non riesco a fare chissà quali punteggi. Però dai, ho appena iniziato. C'è tempo per farsi le ossa. E per... E per vincere. Per il momento mi sto godendo questa bella atmosfera retro. Eh, ho capito che il team rosso sta andando meglio di noi. Che gli devo fare? Eh, però mi ha ucciso. Fuck. E' anche gente che ha una certa esperienza a nuoto. Gente che ha fatto più di venti kill. Vabbè, però... C'è, avete pure un po' di culo, eh. Pochissimi colpi, cazzo, il lanciarazzi, eh. Quello è il problema numero uno. Pochi colpi e colpi che viaggiano lenti. Quindi... Devi scegliere veramente la situazione... Ma dai, come cazzo hai fatto a non morire? Un raggio in testa, ti sei preso, non sei morto. Dai, su. Come cazzo funziona sto gioco? Oh, il lanciarazzi dovrebbe one-shotare, tecnicamente. Per me, da tradizione, se un lanciarazzi ti prende proprio in pieno... Dovrebbe one-shotare, quasi. Eh, vaffanculo. C'aveva pure il cappello da carabiniere, quel. Eh, no. Eh, dai! Ma c'è il lag che aiuta il blu. Eh, dai, cazzo. Da quello che ho visto, il sistema di spawn non è tra i più felici. Sì! No! E che cazzo! Sarebbe dovuto morire, per come la vedo io. Per la mia visione della vita, lui sarebbe dovuto morire. Invece mi hanno segato, proprio. Di brutalità. Lo c'è di buono che tu sei morto. Guarda questo che si teletrasporta. Sì! Una bella revenge. Credo che, come tutte le armi di predizione, questo lanciarazzi non... non sia male per me. Mi piacciono queste armi. Però credo altresì che dovrei farci ancora pratica. Non sono ancora bravo, assolutamente no. Devo farci la mano. Soltanto farci la mano. Sì! Quello è stato veramente un colpo da maestro, eh. Sì! Anche questo non è stato un brutto colpo, eh. Devo ammettere che me la sto cavando. Sì! Togliti dai coglioni! Guarda quello. Sì! Sì! È andato. Vediamo se c'è qualcuno da questa parte. Mi sa che tutto lo scontro si è concentrato nell'altro versante della mappa. Oh, qua qualcosa sta succedendo. Così, preventivo. Pegato sotto. Oh, non vedo nessuno. Il mio... No! Mi sono fatto male da solo. Sì! 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 Madonna ragazzi, che menata di mazzate! Ho fatto veramente una super combo. Sì! Sì! Bella! Bella che l'abbiamo fragana! Madonna! Non mi sto comportando male, anzi, sto facendo degli ottimi punteggi per un Nabbo alla sua seconda partita. Ho avuto anche molta fortuna perché ho beccato una serie di colpi fortunati prima. Erano tutti nello stesso spazio, anche piuttosto stretto, quindi sono morti che era un piacere. Oh, vaffanculo! Eh, vabbè, manco ho visto. Odio quell'arma, eh. Odio quell'arma perché quando guardi verso il tuo aggressore sei bello e accecato. Sì! Madonna ragazzi, che fragone è. Proprio di cattiveria. Sì, è andato! Dovete proprio morire. No! Che brutta morte che ho fatto. Ottimo. Andato. Sì, l'ho preso. Sapevo che sarei dovuto morire. Eh, ma l'ho ucciso. Questa piazza qua sotto è veramente uno spettacolo perché quando... Preso. E guardalo! Guarda, quelli con quell'arma spammosa sono praticamente sempre la mia... La mia nemesis. Riescono a farmi un fracco di danni. Sempre e comunque. Sì, è andato! Sì, è andato anche questo. Energia. Sì, è andato! Sacco di munizioni ho preso. Bene. No, eh. Eh, lo sapevo che se mi buttavo là dentro prendevo un sacco di mazzate. Bravo. Sprega un colpo a cazzo. Me ne rimangono quattro. Non posso difendermi più di tanto. Bella, però! Dai, è andata Benone, ragazzi. È andata Benone. 31 di punteggio. Come il più forte dell'altra squadra. Come seconda partita non c'è male. Noi ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Spero che sia divertente. Spero di migliorare. Spero di giocare anche contro di voi.